Novena a Gesù Bambino di Praga, ottavo giorno. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Insieme con la croce sul tuo petto io scorgo, bambino Gesù, un piccolo cuore. È l'immagine del tuo cuore veramente d'oro per l'infinita tenerezza. Tu sei l'amico vero che generosamente si dona, anzi si sacrifica per la persona amata. Riversa ancora su di me, oh Gesù, l'ardore della tua carità e insegnami a corrispondere al tuo amore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Glorie al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per la tua divina infanzia, oh Gesù, concedimi la grazia che ti chiedo. Domandiamo a Gesù, bambino di Praga, la grazia a noi necessaria. Restiamo qualche istante in silenzio. Non guardare alla mia indegnità, ma alla mia fede e alla tua misericordia infinita. Amen. Preghiamo. Dio che costituisti l'unigenito tuo figlio salvatore del genere umano e ordinasti che si chiamasse Gesù, concedi propizio che di colui il cui santo nome veneriamo in terra possiamo godere in cielo anche la vista, per lo stesso Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Ripetiamo spesso oggi, Gesù, bambino di Praga, confido in te.